Nel nome del taumaturgo, patrono della Calabria e della gente di mare, i comuni calabresi fanno rete. Non a caso il progetto si chiama La Rete di San Francesco di Paola, la cui costituzione vale 16 milioni di euro. Seria, articolata, l'idea presentata dai sindaci della regione a tempi certi di realizzazione. Così nella cittadella Iole Santelli si respira fiducia. È simbolico questo progetto della Rete dei Comuni che intorno alla figura di San Francesco di Paola hanno costruito una infrastrutturazione fisica, tecnologica, una via simbolo di quello che è il turismo religioso e si integra con la nostra programmazione che abbiamo dovuto purtroppo sotto pandemia non poter mettere in campo. La Rete di San Francesco di Paola è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, significherà sviluppo e lavoro. Le cooperative di giovani che si occuperanno dell'Hub dei parcheggi nuovi a San Francesco abbiamo sentito anche i 12 Hub nel Comune di Coliano Rossano. Sono tutte cose vere, concrete e reali che il MIBAT, che è un finanziamento ministeriale, finanzerà. Qui non aggiungeremo gli altri nostri interventi che presenteremo anche nei prossimi giorni. Il cammino di San Francesco di Paola da San Marco alla città del Tirreno è in realtà il turismo lento riscoperto negli ultimi anni. La nascente rete presentata questa mattina a Catanzaro avrà come capofila il Comune di Paola. Paola ha questa primoginitura però che condivide pienamente con città importanti, Corigliano Rossano, con Spezzano della Sila che è l'avamposto del Parco della Sila, con Paterno che è inserita perfettamente nell'aria urbana. È quindi un progetto che se arriva a buon fine, come speriamo, perché ci sono tutti gli elementi che ci inducono ad essere ottimisti, alla fine diventerà un progetto pilota capace non soltanto di calamitare l'attenzione dei pellegrini e dei turisti ma anche di offrire una visione della Calabria finalmente a passo con i tempi.